Sindaco Perazzetti, Lab vaccinale di Città Sant'Angelo continua a lavorare con numeri importanti, tante persone che arrivano da tutta la zona, però ci sono dei problemi anche dal punto di vista logistico e delle lunghe code che si creano. L'appello che faccio a tutti i cittadini e gli utenti che si rivolgono presso Lab, oggi Lab svolge un'azione di 1800 vaccini giornalieri, l'appello che faccio è quella di avere una responsabilità nel presentarsi il giorno di prenotazione, non voglio dire l'ora ma almeno è solo il giorno. Abbiamo potuto notare in questi giorni la presentazione di tante gente che comunque non aveva la prenotazione, che si metteva in coda e poi alla fine dopo giustamente una fila che allungavano e quindi dilatavano, si lamentavano con i volontari della protezione civile che oggi stanno, e lo voglio ribadire, facendo un'azione di volontariato. E naturalmente far ricevere insulti a chi dedica il proprio tempo agli altri è una cosa che assolutamente non tollero, quindi l'azione che noi oggi dobbiamo svolgere è quella di sensibilizzare le persone a presentarsi il giorno della prenotazione. Queste code che si sono create possono essere anche derivanti da un male funzionamento della comunicazione da parte poi di chi dovrebbe gestire questi hub vaccinali o comunque la vaccinazione proprio nel territorio? Guardate, il ciclo di vaccinazione all'interno del lab di Città Sant'Angelo è stata calcolata all'interno di un'ora. In un'ora si fa la fila, si fa l'accettazione, si fa l'anamnesi, si fa la vaccinazione e si fa anche il post-vaccinazione. Il problema è solamente che le code si creano nel momento in cui dalle 1800 vaccinazioni che si devono fare si iniziano a presentare 2000-2100 persone che allungano e dilatano i tempi naturalmente di tutto quanto questo processo. La possibile apertura di altri hub vaccinali come quelli che potrebbero essere aperti tra poco a Pescara sono un'opzione importante anche per quello di Città Sant'Angelo, cioè evitare le lunghe code? Assolutamente sì, un'azione sinergica di tutto il territorio. Lo ribadisco e così come l'ho detto la prima volta quando è stata aperta quella di Città Sant'Angelo sono sorte alcune polemiche. Non si deve fare un campanilismo sulla campagna vaccinale. Noi dobbiamo solo e semplicemente fare squadra, quindi più hub vaccinali si aprono meglio è perché riusciamo a raggiungere la stragrande maggioranza della popolazione e riusciamo a sconfiggere. Ci auguriamo questo virus il prima possibile.